Cuore di topo, capitolo 31. Quando cavalchi una tigre, è difficile smontare. Luan, grida il signor Brofi, dove sono i miei dannati doritos? Nell'armadietto, sopra il microonde. Questi sono al gusto nachos. Giù le mani, grida Duane dalla sala da pranzo, quelli sono miei. Lo so, dice il signor Brofi, dove sono i miei giapegnos? Sono già in tavola, risponde la signora Brofi, dietro al cestino di pollo fritto. Il signor Brofi si trascina fuori dalla stanza. Beh, perché non l'hai detto prima? Mi hai fatto fare questa faticaccia di andare fino in cucina? Non appena è uscito, mi giro verso Gabriel. Dobbiamo andarcene da qui, immediatamente. Gabriel annusa l'aria. Ma sento odore di grasso, fast food. Il fast food è il massimo, esclama Gilligan, impaziente. Pollo fritto, anelli di cipolla fritti, crocchette fritte, patatine fritte. Voi non capite, il signor Brofi è un uomo cattivo, molto cattivo. Gabriel si torce i baffi e sorride. Può darsi, ma apporta a casa cibo buono, molto buono. Coraggio, interviene Michaela. Vediamo se hanno preso anche la torta di mele fritta. E lei a fare strada salendo su per i pomelli dei cassetti, fino ai sacchetti di carta bianchi macchiati d'unto sul fondo. C'è un altro sacchetto laggiù, grida Gwindle. Sul pavimento, vicino alla scatola fredda, intende il frigorifero. Gwindle scende a esaminare il sacchetto bianco rovesciato. Non è eccitante? Mi dice Michaela. E visto che sta davvero parlando con me, fingo un entusiasmo straripante, come se non sapessi che il signor Brofi è il perfido uomo delle pulizie. Molto eccitante, rispondo. Davvero da brividi. Tuttavia, non ho mai mangiato cibo da fast food. Oh, è delizioso, spiega Michaela. Specialmente le torte di mele fritte. Me ne offre un pezzo fumante. Provala! La mia debolezza per la torta di mele prende il sopravvento. Forse un rapido morsino. Sto per affondare i denti in quel boccone dall'aroma paradisiaco quando sento il suono più orribile che esista nel mondo dei topi. Snap! Restiamo tutti paralizzati. I nostri musi si trasformano in maschere d'orrore. Quel rumore è il peggiore incubo di ogni topo. Cuore di topo. Capitolo 32. Non andare in cerca di pericoli. Loro sanno come trovarti. Scendiamo di corsa dagli armadietti e raggiungiamo Gwindle, che si contorce dal dolore sdraiata su un fianco. Sono le fauci della morte, boccheggia Michaela. Era dietro di me, gemme Gwindle. Non l'ho vista. Rilassati, le dice Gabriel. Cerca di calmarti. Rilassarmi? Calmarmi? Sono intrappolata, Gabriel! È vero. La coda e la zampa destra di Gwindle sono chiuse sotto la perfida sbarra a molla di una trappola per topi Victor. C'è un motivo se nessun topo nella storia ha mai chiamato suo figlio Victor. Sono troppo giovane per morire, piagnucola Gwindle. Tu non morirai, le risponde Gabriel, la voce quasi altrettanto tremante di quella di sua sorella. Da secoli noi topi conosciamo il pericolo che si annida nelle trappole ideate per noi. Ci parlano di quei diabolici congegni dal giorno in cui veniamo al mondo. Le filastroche per bambini, come Topino, si svelto, non ti appisolare, la trappola cattiva non devi far scattare, le hanno create per insegnarci a evitare quegli ordigni mortali di infida semplicità. Ma poi un topo vede un pezzo di formaggio lasciato lì incustodito, sopraffatto dal desiderio, si convince che riuscirà a sgraffignare l'esca prima che la trappola scatti. Non è andata così per Gwindle. Secondo me ha tentato di portare via il formaggio con un colpo di coda, ma la trappola è stata troppo rapida. Ora ha una zampa rotta e la coda malamente schiacciata. Dobbiamo sollevare la sbarra, dico. Non possiamo, borbotta Gabriel, è impossibile. Morirò, rabbrividisce Gwindle. Forza, insisto, date una zampa a tutti quanti. È senza speranza, osserva Michaela. Niente è senza speranza, se non rinunciamo a sperare. Afferro la sbarra, provo a sollevarla. Non si muove. Finalmente gli altri si uniscono a me. Tutti e cinque afferriamo la sbarra e proviamo con tutte le nostre forze a sollevarla quel tanto da permettere a Gwindle di liberarsi. Quando i miei muscoli stanno per esplodere, Gabriel molla la presa. È inutile, conclude. Gli altri topi seguono il suo esempio. Io sono l'ultimo a lasciare la presa. Non sento quasi più la coda, si inghiozza Gwindle. Sto per suggerire qualcosa quando il signor Brofi torna a passi pesanti in cucina. Da questa parte, sussurro. Facciamo rapidamente scivolare Gwindle e la sua trappola dietro al frigorifero in modo da nasconderci tutti. Il signor Brofi spalanca la porta del frigo. Continuano a darmi il tormento per quello che è scappato, grida rivolto alla famiglia in sala da pranzo. Quello blu! Perché hanno tanto bisogno di quello blu? Urla sua moglie di rimando. Perché è quello che è riuscito a scappare. Sento un tintinnare di vasetti di vetro. Dove diavolo è la gazzosa? Dietro i sottaceti, strilla Duane. Il pavimento della cucina scricchiola quando il signor Brofi torna in sala da pranzo. Di solito, questo è il momento in cui andrei fuori di testa, nel panico. Il signor Brofi ha appena dichiarato che i lunghi camici del luogo orribile mi stanno ancora cercando. Non mi sorprenderebbe vedere la mia bella faccia blu su qualche manifesto da ricercato. Ma anche se il signor Brofi potrebbe sorprendermi da un momento all'altro e riportarmi nel luogo orribile, mi rifiuto di abbandonare Gwindle. Come dicono nella sua famiglia, noi non lasciamo indietro nessuno. Dobbiamo riportare a casa il corpo di Gwindle, sussurra Gabriel, per farle il funerale. Gwindle piagnuncola. Ti ho sentito. Non ci sarà nessun funerale, le dico. Ci sarà una festa di bentornata. Ti salveremo, Gwindle. Hai la mia parola? Lei annuisce tra le lacrime e riesce ad accennare un sorriso. Sa, come sanno tutti, che la parola di un topo è solida come la roccia e che farò qualsiasi cosa per mantenerla o morirò nel tentativo. Cuore di topo, capitolo 33. Un topo buono a parole e non coi fatti è come un giardino infestato di gatti. È impossibile, Isaia, sentenzia Gilligan. Nessun topo l'ha mai fatta in barba a una trappola come quella, aggiunge Gordon. Dobbiamo provare, insisto. Perché, chiede Gabriel, servirà solo a prolungare le sofferenze di Gwindle. Ho dato la mia parola e ho un'idea. Anch'io ho un'idea, disse Gilligan. Ho idea che il grande e grosso signor Brofi tornerà e ci intrappolerà tutti quanti. Oppure ci calpesterà, aggiunge Gordon, le cui giunture stanno sbattendo l'una sull'altra. Mi serve solo un cucchiaio. Indico il bancone vicino al lavandino. Probabilmente ce n'è uno in quel cassetto lassù, ma per prenderlo mi serve aiuto. Probabilmente c'è un'altra trappola per topi in quel cassetto, mugola Gordon. Probabilmente è lì che i Brofi tengono le loro trappole per topi. D'accordo, lo farò da solo. No, invece, interviene Michaela. Io vengo con te. Anch'io, dice Gabriel. Noi tre risaliamo rapidamente il lato dell'armadietto, mentre Gilligan e Gordon vanno a confortare Gwindle. Che fiori vuoi al tuo funerale? Sento Gordon chiederle. Denti di leoni o trifoglio? Ovviamente Gwindle scoppia in singhiozzi. Dobbiamo sbrigarci, dico a Gabriel e Michaela, o quei due spaventeranno Gwindle a morte. Attraversiamo di corsa il piano di lavoro fino all'estremità che sporge sopra un sottile cassetto. Tenetemi per le zampe, devo sporgermi oltre il bordo. Perché? Chiede Michaela. Devo aprire quel cassetto. Se tutto va bene, è lì che i brofi tengono le posate. Possiamo usarne una come leva per liberare Gwindle. Che cos'è una leva? Chiede Gabriel. Una delle sei macchine semplici. Una leva è una sbarra rigida che insiste su un supporto chiamato fulcro. Ci aiuterà a sollevare un carico che sarebbe troppo pesante sollevare da soli. Già, è davvero sorprendente quante cose si possano imparare dai libri. Forza adesso, non ci resta molto tempo. Tenetemi per le zampe. Davvero non riesco a credere a ciò che sto per fare. Striscio oltre l'estremità del banco e penzolo a testa in giù come un trapezista. Afferro saldamente la maniglia del cassetto. Ora devo utilizzare tutti i miei muscoli, compresi quelli dello stomaco, per tirare la maniglia, per trascinarla in avanti. All'inizio non si muove, ma poi Gabriel e Michaela mi aiutano. Quando tiro, loro danno uno strattone alle mie zampe per darmi più spinta. Di lì a poco Gabriel dà il via a una cantilena. Oh, issa! All'issa io tiro e loro strattonano. Iniziamo a prendere un certo slancio. Lentamente, ma costantemente, il cassetto si apre. Oh, issa! L'ultimo strattone è notevole. Ora il cassetto è aperto di 5 centimetri buoni. Guardo dentro. Eureka! In effetti è pieno di coltelli, forchette e cucchiai. Credo che un cucchiaio da minestra farà perfettamente al caso nostro, osservo. Lasciatemi la presa. Stai bene? Chiede Michaela. Benissimo! Borbotto, il naso infilato tra i denti di una forchetta. Sentiamo Gilligan chiedere a Gwindel se può prendersi le sue coperte quando sarà morta. La sua risposta è un pianto isterico. Sbrigati! Mi incalza Gabriel. Per favore! Afferro un cucchiaio e cerco di alzarlo oltre il bordo dell'armadietto, ma non ci riesco. È troppo pesante. Ragazzi! Chiamo. Mi serve altro aiuto. Michaela e Gabriel si scambiano un'occhiata. Alzano le spalle. Ispirati dalla mia pazzia oltrepassano il bordo del bancone e saltano nel mio cassetto. In tre riusciamo a sollevare il cucchiaio. Lo facciamo scivolare oltre il pannello frontale del cassetto, gli diamo un'ultima spinta e lo facciamo volare giù. Rimbalza tintinnando un paio di volte quando tocca il pavimento. Guardo i miei due amici. Adesso andiamo a salvare Gwindel. Cuore di topo Capitolo 34 Più sono le mani, più leggero è il lavoro. Tutti e tre infiliamo l'incavo del cucchiaio sotto la sbarra che blocca la zampa e la coda di Gwindel. Grazie Esaia, mi dice lei con la voce sempre più debole. Non ringraziare me, le rispondo. Questo è un lavoro di squadra. Non lasciamo indietro nessuno, sussurra Michaela. Soprattutto mia sorella, aggiunge Gabriel, carezzando il mantello di Gwindel. Quando il cucchiaio è conficcato tra la sbarra e la base in legno della trappola, Gabriel, Michaela, Gilligan, Gordon e io ci sistemiamo al di sotto del lungo manico. Al mio via, dico. Uno, due, tre, afferrare! Tutti e cinque saltiamo più in alto che possiamo e riusciamo ad afferrare il cucchiaio. E ora tiriamo, grida Gabriel. La sbarra si alza, ma non abbastanza. Molliamo la presa e ci lasciamo cadere a terra. Gwindel manda un gemito. Mi rendo conto che non durerà ancora lungo. «Ancora!» esclamo. «Uno, due, tre, afferrare!» Saltiamo ancora tutti e di nuovo penzoliamo dal manico del cucchiaio. «Ora tiriamo!» grida Gabriel. «Più forte! Avanti!» «Date tutto quello che avete, ragazzi!» Stiamo tutti grugnendo e gemendo. Guance e musi si stanno facendo rossi, salvo il mio che si sta facendo viola. Gabriel si produce in un ultimo Erculeo strattone e «Sì! La mia macchina semplice funziona davvero!» Il nostro peso sulla leva fornisce la forza sufficiente a sollevare la sbarra. E Gwindel ha appena la forza sufficiente a rotolare di lato e liberarsi. «Ce l'abbiamo fatta!» Gabriel si stringe delicatamente in grembo la testa della sorella. «Mio eroe!» sussurra Gwindel con un debole sorriso. «Shh!» le risponde Gabriel. «Dobbiamo riportarti a casa!» «Decidiamo di abbandonare la nostra corsa al cibo e limitarci a una corsa e basta, il più in fretta che possiamo, verso casa». Cuore di Topo Capitolo 35 Le parole non hanno ali ma possono volare a migliaia di chilometri. La mattina dopo di buon'ora mentre il resto della mia nuova famiglia smaltisce dormendo la festa di ieri sera per il ritorno di Gwindel sana e salva attraverso rapidamente la strada per andare a fare visita alla mia nuova amica umana Eili. Stavolta non mi inseguono poiane coda rossa o gatti grazie al cielo. Quando mi intruffolo in casa vengo a sapere che ancora una volta Eili non va a scuola. A quanto pare è parecchio malata principalmente sono nauseata dalla scuola mi confida in più ho rotto il termometro di mamma perciò non è in grado di sapere se ho davvero la febbre o no. Perché non ti piace la scuola? Le chiedo con le zampe. Fortunatamente il punto di domanda è molto vicino al tasto delle maiuscole altrimenti non sarei in grado di chiedere nulla ad Eili. Mi piace la scuola risponde Eili insomma mi piaceva poi ci siamo trasferiti qui e adesso andare a scuola significa sedersi nella stessa stanza con un mostro di nome Melissa. È come una gorgone la donna mostruosa con i serpenti al posto dei capelli zanne appuntite e ali da rettile ne ho letto qualcosa. No risponde Eili con una risata Melissa è solo una ragazza cattiva si diverte a chiamarmi Foruncolo indica i suoi capelli bianchi perché ho la testa bianca capisci? Sì molto divertente in realtà mica tanto testa bianca è un altro nome per brufolo Isaia annuisco in realtà non so cosa sia un brufolo e credo di non volerlo sapere mentre chiacchieriamo mi rendo conto che Eili e io abbiamo molto in comune entrambi abbiamo i nostri luoghi orribili il mio è la prigione che condividevo con la mia famiglia il suo è la scuola dove Melissa la insulta forse domani andrò a scuola dice Eili se Melissa mi chiama di nuovo Foruncolo io la chiamerò Gorgone se lo farai sarai uguale a lei lei arriccia le labbra fa una smorfia già hai ragione piccolo topo saggio non voglio che mi succeda questo nemmeno io una Melissa mi sembra sufficiente hai fame? annuisco vieni c'è della torta di briciole ti lascio la precedenza perciò ce ne andiamo in cucina e continuiamo la nostra chiacchierata davanti a una meravigliosa colazione dietro sua richiesta mi metto a danzare sulla tastiera del computer della cucina e racconto ad Eili la triste e orribile verità sulla mia vita da topo noi topi siamo piccoli e incompresi praticamente ogni cosa animata e inanimata è più grossa di noi passiamo la vita guardando ogni cosa dal basso e venendo guardati dall'alto a quanto pare non sono molto le creature a cui piacciamo a parte ovviamente quelle che adorano mangiarci ce ne sono parecchie e gli umani sebbene abbiamo molto in comune con loro quasi tutti esclusi i presenti non ci trattano molto bene e questo è il mio mondo Eili è davvero proprio così non riesco a credere di aver digitato tutto questo senza saltare una sola battuta ed Eili se ne sta lì ad ascoltare beh in realtà a leggere ma avete capito cosa intendo e quando ho finito quando salto divaricando in modo disordinato la zampa anteriore e quella posteriore per riuscire a digitare quel punto esclamativo sospira capisco quello che stai passando Isaia commenta perché in un certo senso anch'io sto passando qualcosa di simile meno male che abbiamo la torta di briciole e il gelato alla stracciatella aggiunge Eili con una risata e un posto sicuro senza melisse tra i piedi concordo al cento per cento da quel giorno in avanti faccio visita a Eili a ogni sorgere del sole quando la mia famiglia adottiva sta dormendo adoro trascorrere il tempo con lei non solo perché ogni volta Eili mi rimanda a casa con un tovagliolo pieno di prelibatezze quello che davvero mi piace di Eili è che mi sta ad ascoltare anche quando le racconto del fatto che il signor Brofi è l'uomo delle pulizie e che vorrei rubargli le chiavi per liberare la mia famiglia lei ascolta non ho mai conosciuto un umano e nemmeno un topo che sia simile a Eili dai capelli bianchi beh forse Michaela Michaela è dolce e gentile come Eili forse anche lei è una buona ascoltatrice è solo che non le piace ascoltare me cuore di topo capitolo 36 le nostre fiammate più luminose sono spesso innescate da scintille inattese tornato alla Tana nella colonia di Michaela si direbbe che io stia ottenendo un rispetto sempre maggiore soprattutto dopo aver architettato quella che chiamo operazione ghianda una sera nel corso della nostra abituale caccia al cibo a casa Brofi dico a tutti di portarsi dietro quante più ghiande riescano a trasportare lei siamo in cima ai vari banconi per poi tirarle come palle di cannone verso tutte le trappole per topi che riusciamo a distinguere più in basso innescate dal nostro bombardamento le trappole a molla scattano all'impazzata su tutto il pavimento della cucina quando i Brofi corrono in cucina per vedere cosa ha scatenato questo putiferio utilizzo il diversivo per lanciare un attacco a sorpresa sul loro tavolo da pranzo sfrecciamo tra i loro piatti abbandonati tutti stracarichi di cibo e afferriamo tutto quello che riusciamo a trasportare tanto tra le zampe quanto dentro a un paio di sacchi tovaglioli la sera dopo prendiamo un'intera confezione di Doritos al gusto di nachos al formaggio ovviamente che troviamo nascosta nella camera di Duane dobbiamo aprire la confezione con i denti e poi trasportare i triangolini al formaggio uno alla volta giù per la conduttura del lavandino ma è un'operazione molto divertente mentre riportiamo il carico nella tana intoniamo canzoni vorrei solo che Michaela fosse con noi magari si sarebbe unita al coro poi c'è lo scherzo che ho giocato accidentalmente alla signora Brofi non intendo scendere nei dettagli basti dire che ha coinvolto una ciotola di chicchi d'uvetta ricoperti di cioccolato e il fatto che le cacche di topo somigliano moltissimo a chicchi d'uvetta ricoperti di cioccolato potresti essere un buon capo Isaia mi dice James il saggio sappiamo che sei diverso da tutti gli altri topi della nostra colonia ma la tua diversità ti offre certi vantaggi sei geniale sei intraprendente sei blu fa Gabriel ridiamo tutti dopo tutto come dice James il saggio io sono parte di un gioco di squadra questo tipo di bonarie prese in giro sono piuttosto comuni nelle famiglie e quando si tratta della mia famiglia adottiva sono disposto a fare qualsiasi cosa vada fatta eccetto parlare del mio passato quello è personale è molto molto confidenziale cuore di topo capitolo 37 il silenzio è d'oro i vecchi topi sono grigi una sera James il saggio e il consiglio degli anziani mi convocano nel loro salone stavolta sono le mie giunture che iniziano a battere l'una sull'altra la convocazione è un'aria molto ufficiale fa quasi paura ma non quanta ne fa il salone dove gli anziani mi scrutano con espressioni impassibili perché gli anziani vogliono parlarmi mi chiedo ho fatto qualcosa di sbagliato hanno deciso di cacciarmi dalla loro colonia mi toccherà tornare a leccare il fondo dei bidoni dell'immondizia e se non potessi più vedere Micaela Isaia il coraggioso tuona con voce profonda uno degli anziani fatti avanti e ascolta il tuo destino obbedisco mi faccio avanti per ascoltare il mio destino frase che per inciso suona parecchio sinistra quando ti viene gridata da un anziano e per sinistra intendo non buona stanno per cacciarmi lo so mi toccherà tornare a vivere sotto il marciapiede James il saggio si alza dal suo trono all'estremità opposta del salone Isaia la sua voce è forte e decisa noi anziani della colonia brofi abbiamo votato il nostro verdetto è unanime già ecco che arriva il buon vecchio ben servito tu Isaia il coraggioso da questo istante e da adesso in avanti sarai conosciuto ora e per sempre come chiudo gli occhi membro effettivo di questa colonia resto per un attimo senza fiato non mi stanno cacciando mi stanno ufficialmente adottando mi sento travolto da un'ondata di sollievo e felicità al pensiero che non verrò cacciato dalla colonia gli piaccio e forse questo potrebbe dimostrare a Michaela che possiamo essere accettati anche se siamo davvero un po' diversi in particolare dalla nostra famiglia famiglia la mia gioia è offuscata da ciò che devo dire adesso vi ringrazio per questo grande onore anziani rispondo chinando il capo ma ho già una famiglia potresti parlarcene chiede subito un topo grigio di nome Griswold si sta sfregando le zampe come se fosse impaziente di ascoltare la mia storia per poi poterla spiattellare a tutti i suoi amici no signore non posso siamo tutti molto curiosi aggiunge un'anziana femmina sfoggiando in un sorriso la sua lunga dentatura si chiama Gründel ha perso tutti i baffi e indossa occhiali scuri fatti con i resti di una bottiglietta di estratto di vaniglia nella nostra famiglia prosegue Gründel non abbiamo segreti dici Isaia cosa ti ha reso così diverso cosa ti ha reso così così blu mi sento il cuore a pezzi mi vogliono davvero per me o per il divertimento di avere tra loro uno strano topo blu sul quale spettegolare non sono disposto a condividere il mio doloroso passato specialmente con questi vecchi chiacchieroni prima che possa parlare James il saggio alza la zampa basta così ordina abbiamo tutti dei segreti Gründel per esempio io so che quelli non sono i tuoi veri denti quelli sono due pezzi di gomma da masticare per umani cicche credo che le chiamino Gründel si copre rapidamente la bocca come fanno tutti gli altri anziani per soffocare le risate se e quando Isaia sarà pronto a raccontarci del suo passato continua a James il saggio allora ce lo racconterà per adesso Isaia il coraggioso sei un membro onorario della colonia Brofi benvenuto nella tua nuova famiglia mi sento onorato e anche un po' solo tutto questo parlare di nuova famiglia mi fa sentire ancora di più la mancanza di Abe e Winnie e i miei altri 94 fratelli è passato così tanto tempo dal giorno in cui sono scappato ho perfino rinunciato a spargere il mio odore come traccia forse Benji non organizzerà mai un'altra evasione forse non rivedrò mai più la mia vecchia famiglia cuore di topo capitolo 38 un topo chiuso in se stesso è un ben misero pacchetto più tardi quella sera esco a fissare una splendida luna è quello che faccio quando mi sento più triste del solito faccio un sospiro triste i miei fratelli e sorelle mi mancano mi mancano moltissimo li ricordo tutti naturalmente ma alcuni più degli altri Abe il mio fratello dal pelo rosso per me era il migliore amico del mondo e un tale mattacchione se fosse qui con me quello scherzo dei chicchi d'uvetta al cioccolato lo faremmo ogni sera a casa brofi e Winnie io la chiamo Winnie la meravigliosa perché ho appena sentito qualcosa un rumore tra gli arbusti alle mie spalle un fruscio di foglie rametti spezzati il tipo di rumore che farebbe un gatto che striscia di nascosto nel sottobosco pronto a balzare addosso alla sua preda è lucifero è di nuovo in caccia sono forse il piatto forte del suo spuntino di mezzanotte Isaia riprendo a respirare un attimo dopo rischio di schizzare fuori dalla mia stessa pelliccia è Michaela non farlo le dico fare cosa arrivarmi alle spalle di nascosto in quel modo a momenti mi fai venire un attacco di cuore ed essendo un topo il mio cuore è piuttosto piccolo non ci vuole molto ad attaccarlo non essere sciocco risponde lei tu hai un cuore grandissimo no è a dimensione di topo minuscolo non può sopportare molte altre creature che gli arrivino alle spalle strisciando di nascosto io non stavo strisciando ti muovevi di soppiatto nella boscaglia Michaela sospira sono un topo è quello che facciamo strisciamo o scappiamo a volte sfrecciamo ma qui nel prato è per lo più strisciare tiro un profondo sospiro cerco di rallentare il battito impazzito del mio cuore funziona non sento più nelle orecchie il martellare dei tamburi di guerra scusa sei scusato Isaia e quando ho detto che hai un cuore grandissimo non parlavo delle sue dimensioni intendevo che sei altruista e premuroso ti ho visto all'opera ho visto come hai salvato Gwindel come ti assicuri sempre che tutti gli altri abbiano abbastanza da mangiare prima di toccare un solo boccone non so bene come prendere le sue parole Michaela mi sta parlando ed in modo molto dolce se posso dirlo di conseguenza mi chiedo non è che Grundel o Griswold o con qualche altro decrepito anziano le ha detto di torchiarmi pensano che avendo io una cotta per Michaela racconterò a lei tutti i miei segreti anziché a loro sei stata mandata qui fuori a interrogarmi le chiedo piuttosto sgarbatamente Michaela è confusa a fare cosa un interrogatorio a farmi ogni sorta di domanda sul mio passato no sono semplicemente uscita a fare un giro mi piace passeggiare al chiaro di luna e pensavo che forse piace anche a te mi sento in colpa per aver accusato Michaela oh beh quindi ti piace passeggiare al chiaro di luna oh sì a dire il vero è una delle cose che preferisco passeggiare al chiaro di luna lei sorride allora perché ce ne stiamo qui fermi ottima osservazione perciò passeggiamo insieme al chiaro di luna ma è proprio vero inizio che i denti di Grundel sono fatti di gomma da masticare Michaela ride sì una mattina mentre rifacevamo i letti Gwindel ha trovato una scatola intera di denti di ricambio nascosta sotto il suo materasso non c'è da stupirsi se ha un alito così fresco e mentolato questa volta ridiamo entrambi e poi parliamo di tutto e di tutti in particolare dei brofi ci stiamo davvero divertendo tanto che a un certo punto chiamo a raccolta un po' del mio ritrovato coraggio e le faccio la domanda che non vedevo l'ora di farle dal primo giorno che l'ho incontrata Michaela sì Isaia ti andrebbe insomma non è che forse potresti qui fuori qui fuori siamo noi due soli lei sorride dolcemente ti piacerebbe sentirmi cantare di nuovo più di tutta quella luna di formaggio lassù in cielo lei si guarda attorno beh dal momento che siamo soli e nessuno ci può sentire apre la bocca e nel momento in cui le prime dolcissime note della sua canzone iniziano a risuonare si sente un forte fruscio e qualcosa di gigantesco salta fuori dall'ombra davanti a noi lucifero cuore di topo capitolo 39 quando la musica cambia il ballo fa altrettanto io e Michaela saltiamo dietro a un grosso sasso del tipo che spaccherebbe la lama di un tagliaerba se i brofi un giorno decidessero di tagliarla e ci rannicchiamo ma il gatto non sta cercando noi a quanto pare stanotte sta puntando dei pulcini che pigolano sullo stesso albero di quercia in cui si trovava il nido di poiana nel quale ero precipitato un momento quei pulcini sono proprio gli stessi piccoli di poiana che ho conosciuto quando la loro madre mi ha servito loro per colazione più in alto sull'albero lucifero sta schiaffeggiando i pulcini colpisce le loro testoline lanuginose con il cuscinetto carnoso che ha sotto la zampa sta giocando al gatto e topo con loro borbotto ma loro sono uccelli sussurra Michaela non importa che cosa colpisce per una creatura malvagia come lucifero la vita è tutta un crudele gioco di gatto e topo sono solo dei pulcini osserva Michaela non possono difendersi dov'è la loro madre quando abbiamo davvero bisogno di lei mormoro io sento un altro strillo lucifero ha appena colpito un'altra testina pelosa ancora una volta non riesco a credere a quello che sto per fare aspetta qui dico a Michaela nasconditi mi alzo in piedi cosa Isaia cosa pensi di fare una cosa in cui a quanto pare sono bravissimo comportarmi come la cena di qualcun altro schizzo fuori dall'ombra e trovo un angolo ben illuminato dalla luna io pelatino sono qui lucifero smette di colpire i pulcini abbassa su di me i suoi scintillanti occhi gialli sembri una prugna secca grido niente affatto aggiunge Michaela che all'improvviso ritrovo in piedi al mio fianco somiglia a un tacchino spennato em Michaela biascico con l'angolo della bocca pensavo ti dovessi nascondere e pensavi male lucifero ci interrompe con un sibilo orribile in un attimo lascia perdere i pulcini e scende dall'albero a passo di carica verso di noi volate uccelli volate via grido mentre afferro la zampa di Michaela per scappare via insieme volate forse non sono capaci di volare dice Michaela mentre svoltiamo l'angolo della casa con lucifero alle calcagna sono solo dei pulcini beh dovranno imparare e in fretta lucifero ci è quasi addosso quel gatto è velocissimo guadagna tre o quattro centimetri su di noi a ogni giro della casa dovremo dividerci dico a Michaela ansimando lui seguirà me e io sono allenato grazie alla ruota allora perché sei quasi senza fiato ansima lei perché è il sesto giro che facciamo attorno a questa casa restiamo insieme dice lei siamo una famiglia beh questo non significa che dobbiamo morire insieme ma mi rendo conto che le mie parole non servono Michaela non mi abbandonerà è molto nobile da parte sua potrebbe anche rivelarsi molto sciocco perché lucifero ci prenderà ho fatto il calcolo a mente a metà del prossimo giro attorno a casa brofi lucifero ci arriverà a portata di tiro nel giro successivo ci prenderà entrambi ci ucciderà e ci mangerà subito dopo averci torturato per qualche ora l'unica buona notizia beh nel momento in cui entrerò nel paradiso dei topi Michaela starà lì con me le daranno una veste da angelo e un'arpa e le chiederanno di cantare nel coro questo mi offre qualcosa da attendere con impazienza dopo tutto quel torturare uccidere e morire all'improvviso uno strillo acuto si alza alle nostre spalle uno strillo di poiana mamma è tornata e adesso Michaela e io abbiamo due assassini a inseguirci grazie a tutti grazie a tutti